Iesi, la città molteplice, è il tema della stimolante raccolta di 40 opere tra disegni e dipinti realizzati negli ultimi due anni dal giovane artista Andrea Silicati, giovane iesino che in questo modo ha voluto rivolgere un omaggio alla sua città e alle sue radici nella quale vive. Questa città è sfaccettata nello spazio e nel tempo, ha detto Silicati nel corso della presentazione. Ho cercato di cogliere scorci e particolari della città vissuta, dai supermercati e condomini alle case popolari, senza voler provocare e con il desiderio dimostrare che anche nei piccoli centri e con poche risorse si può fare cultura. La mostra si inserisce a pieno titolo nel percorso di studio della città avviato dall'assessore alla cultura conti con le biblioteche petrucciane e planetiana e vuole essere anche una ulteriore occasione per valorizzare i giovani artisti. Nel pomeriggio del 3 dicembre un interessante incontro di battito coordinato da Roberto Gigli al quale ha partecipato lo stesso artista Andrea Silicati e hanno partecipato il professor Antonio Ramini che ha proposto una narrazione storica sulle famiglie potenti della città che hanno favorito lo sviluppo di Iesi e l'architetto Stefano Santini che ha proposto un collage di punti di vista di artisti e architetti sulla città. La mostra sarà aperta al Palazzo dei Convegni dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 17 20 fino al 7 dicembre.